In questa video guida parliamo di zanzariere magnetiche. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Le zanzariere magnetiche prevengono l'ingresso di zanzare ed altri insetti all'interno degli ambienti che vanno a delimitare. Esse vanno poste su porte e finestre e vanno tenute chiuse per evitare l'ingresso degli insetti. Essendo costituiti da una rete con maglie fittissime, esse permettono il passaggio dell'aria, ma non degli insetti. Ciò le rende ideali anche in estate, dato che permettono la circolazione dell'aria. Le zanzariere magnetiche più economiche sono simili a tendine. Tramite velcro, magneti e bastoni o colla vanno fissate ai bordi di porte e finestre e sono facilmente rimovibili. I modelli di maggior qualità, invece, prevedono l'installazione di un binario e una volta installati non possono essere rimossi.